Caserta Vecchia, l'antica casa Irta, che vuol dire villaggio in alto, dalla sua torre dei falchi si traguarda l'intera campagna. Qui nacque la leggenda che lega Caserta Vecchia alle fate e ai numerosi colletti che si aggirano tra le mura. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dopo un dedalo di vicoli e stradine per rivivere atmosfere di altri tempi, si arriva a scoprire monumenti di notevole importanza, come la prima cattedrale della diocese di Caserta, dedicata a San Michele Arcangelo, la chiesa dell'Annunziata, il castello e il mastio, oltre che San Rocco e il già visto dedalo di vicoli e stradine. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.